Giovedì 13 ottobre, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi al nostro consueto appuntamento con l'informazione di Focus Tg, l'informazione in diretta fino alle 13.30 che porta a casa vostra, le notizie, la cronaca, l'attualità del nostro territorio, è un inizio difficile per questa edizione di Focus Tg perché ci sono tante notizie di cronaca, purtroppo cronaca funesta, cronaca nera perché tra poco saremo in collegamento con Treviso perché ieri è stato commesso un omicidio in fiera, quindi saremo sul posto con Christian Arboit per tutti gli ultimi aggiornamenti su questo delitto e poi tante notizie che purtroppo ci portano a continuare ad aggiornare il numero delle vittime sulle strade del Veneto, sono giorni davvero complicati, partiamo proprio da una notizia che ha funestato la comunità padovana, siamo a San Giorgio in Bosco, ennesimo incidente stradale mortale nell'Alta Padovana, ieri sera ha perso la vita un operaio di 41 anni. Uno schianto frontale, violento, un botto incredibile che non ha lasciato scampo ad Alessandro Nalonna, 41enne operaio di Villa del Conte che ieri sera è morto nell'ennesimo incidente è avvenuto lungo le strade della nostra provincia, intorno alle 20 la Fiat Punto guidata dalla vittima stava percorrendo la strada provinciale 58 che attraversa il centro di San Giorgio in Bosco, giusto nel punto in cui si incontrano piazza 25 Aprile via Morosina, all'improvviso per causa ancora in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un'altra auto guidata dal consigliere comunale e provinciale Fabio Miotti, l'impatto è stato violentissimo, Alessandro Nalonna è parso fin da subito in condizioni disperate ed è deceduto tra le braccia dei soccorritori. Feriti ma non in modo grave, l'amico che era in auto con lui e il consigliere provinciale Miotti che era la guida dell'altra auto coinvolta sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Frontale, incidente frontale nella notte a Brogliano, siamo in provincia di Vicenza, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per estrarre dalle lamiere tre feriti, due sono in gravi condizioni. Brogliano, scontro frontale nella notte, sono le 11 di sera quando in via generale tomba due auto entrano in collisione. Una filisce rovesciata fuoristrada, i vigili del fuoco piombano sul posto da Arzignano e mettono in sicurezza le due auto, estraendo i feriti che immediatamente vengono presi in cura dai medici e dagli infermieri del SUEM 118, intervenuti con tre ambulanze e l'auto medica. I tre feriti vengono stabilizzati e trasferiti in ospedale, due sono gravi in codice rosso. La polizia locale devia il traffico ed esegue i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei pompieri terminano dopo tre ore con il recupero delle auto da parte del soccorso stradale. Strage in A4, torniamo a parlare di questa drammatica notizia. Sono partite ieri da Sandona di Piave le salme, le sette vittime dell'incidente in autostrada, ad attenderle a Riccione l'intera città. Sono partiti poco prima delle dieci dall'ospedale di Sandona di Piave i furgoni delle onoranze funebili con un carico di dolore e lacrime. Le sette vittime della strage in autostrada sono tornate a Riccione dove è stata allestita la camera ardente, insieme, uniti in un tragico destino. Qui erano arrivati per andare in Friuli, per festeggiare, per seguire un progetto che riguardava i ragazzi disabili. Purtroppo qui hanno trovato la fine del percorso. Ne inizierà un altro per loro. Ecco, voglio pensare questo e che tutti a sette oggi abbiano iniziato un percorso diverso. Da Sandona sono stati scortati fino al casello autostradale, poi una staffetta senza fine in ogni città li ha portati fino a Riccione. È un evento che ha toccato i cuori di tutti. Il nostro auspicio adesso è che questa tragedia possa trovare forma per rinascere perché ha portato in un modo molto doloroso però alla luce una realtà di persone che avevano dato gambe a dei sogni belli. È il compito di tutti adesso continuare in quella strada e continuare a incarnare quei sogni. L'immenso abbraccio della città che oggi ha salutato l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini, morta poco dopo, e gli ospiti del centro Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo. Siamo tutti vicino le famiglie, ci stringiamo a loro. Purtroppo oggi è una giornata tristissima e non ho altre parole purtroppo da aggiungere. Nel pomeriggio è stata aperta la Camera Ardente e domani alle 14.30 si trà il funerale allo stadio comunale di Riccione per permettere a tutti di poter salutare le vittime. Sarà presente anche il sindaco di San Donandria, Cereser, insieme al comandante della polizia locale che porterà il gonfalone della città. Domani a Riccione sarà lutto cittadino. A 90 di Piave la cittadinanza è invitata ad esprimere ai familiari il cordoglio della comunità con un minuto di silenzio alle 14.30 in concomitanza con la cerimonia funebre. Un ultimo atto di una tragedia senza fine. Riccione con la sua comunità ha riservato alle sette vittime un commovente, grande, immenso abbraccio. Sono arrivati nella prima mattinata e sono rimasti davanti al cancello dell'obitorio di San Donà, silenziosi, occhi colmi di lacrime. I cittadini hanno voluto essere presenti per abbracciare le sette vittime, ognuno con una storia alle spalle. Io abito a Iesolo, ho il compagno che lavora nel 118, quindi in questi casi qua. Poi ho perso anche un bambino e un figlio, quindi per un dolore di una mamma è immenso. Mi dispiace tantissimo che purtroppo queste cose non devono accadere, ma è una strada purtroppo. Io ho un nipote che ci lavora sempre su quel tratto lì, mi dice sempre che è molto pericoloso. E oggi lei ha voluto essere qui presente per salutarli? Sì, per salutare, sì, perché so cosa vuol dire. A me è morta una sorella in un incidente tanti anni fa e so cosa vuol dire. Sarebbe meglio evitarle queste cose qua e la politica dovrebbe interrogarsi. Merda, grazie. Una tragedia troppo grande anche solo per poterla spiegare? Non si possono spiegare queste cose qua, non si possono assolutamente spiegare. Qualcuno entra, prega e scuote la testa, è una tragedia troppo grande, ci dicono. Voi siete cittadini di San Donato? Sì, di San Donato, sì. Un grande dolore per tutti. Avete voluto essere presente per... Sì, anche ieri sono venuta qua, sì. Un ultimo saluto a questi ragazzi, a questi... Mi dispiace tanto, mi dispiace tanto dolore forte. Un dolore composto, il corteo è partito ed i cittadini con i loro dolori tornano alla vita quotidiana, sperando di non vedere più immagini come queste. Ancora cronaca, aggressione in pieno giorno in un negozio di alimentari all'angolo tra via Capucina e via Lestazione. Siamo a Venezia, insomma. Un ladro sorpreso a rubare ha aggredito il marito del titolare nella collutazione. L'uomo è rimasto ferito. Succede così, sicuro da paurissima. Rimane lo shock nel negozio di alimentari gestito da cittadini cinesi all'angolo tra via Capucina e via Lestazione, dove un tunisino tossicodipendente che frequenta la zona è stato sorpreso mentre rubava tra gli scaffali. Ha preso una bottiglia e ha iniziato a rompere tutto, scatenando una violenta collutazione con il marito della titolare. È l'ennesima aggressione che avviene nel rione di via Piave a Mestre. L'allarme è scattato in pieno giorno attorno alle 14.45. La polizia e i carabinieri arrivati nel giro di pochissimi minuti hanno fermato il nord africano. In questura è stato denunciato per furto aggravato lesioni. Il commerciante è stato portato in ospedale dal personale del SUEM per sotturare le ferite alla testa. È una situazione difficile da sopportare, chiedete aiuto. Va bene così, là siamo tranquilli, dopo piano piano parliamo con il nostro avvocato. È sempre più allarme e criminalità in zona stazione a Mestre. Pendolari, turisti e studenti, spesso minorenni, devono convivere in strada con lo spaccio e i drogati in cerca di una dose. Bisognerebbe avere più controlli. Cioè io questa zona non la farei da sola. I commercianti e i residenti sono sempre più esasperati. Ieri pombreggio qua, ma ieri mattina è successo in via Piave, a ridosso del plazzo. Questa è terra di nessuno, è una di metterci la parola a fine. E allora restiamo proprio nel veneziano, o meglio restiamo proprio a Mestre, perché è stato aggredito e rapinato dell'incasso in pieno giorno con un pugno sul volto. Il malvivente è riuscito a tramortire il commesso che doveva depositare i contanti in banca. Uno gli ha chiesto un'informazione e gli ha tirato un pugno e l'ha straordinato per terra. Un giovane dipendente di un negozio in Piazzale Candiani è stato colpito e rapinato per strada nel centro di Mestre in pieno giorno. Il bottino, l'intero incasso della giornata che ammonta a diverse centinaia di euro. Erano quasi le 16 del pomeriggio quando un uomo in bicicletta di circa 30 anni lo avrebbe interpellato in lingua francese chiedendogli l'elemosina nei pressi della banca dove il dipendente doveva versare il contante. Probabilmente è solo una scusa per avvicinarlo, per poi tirargli un pugno in pieno volto e rubargli il contante che aveva messo nella tasca posteriore dei jeans. Intelligente il tipo, con i soldi che escono dalla tasca. Erano in una busta trasparente. Ecco bene, prendetemi. La polizia è intervenuta ma il rapinatore ha fatto in tempo a dileguarsi. Rimane la paura per residenti e commercianti che da tempo prendono ogni precauzione per non farsi derubare. C'è da stare attenti. Altro che attenti, ma ti vedi, io cammino con il portafoglio davanti. Però cosa vuoi? Periferia ancora peggio. Non c'è niente da fare. Bisognerebbe tirare l'orecchio, ma non serve più. Non prendere provvedimenti più soliti, più tenati, perché questi ragazzi non li tieni più. Parliamo ancora di criminalità e ancora di notizie che riguardano chiaramente il nostro territorio. Ci spostiamo dalla provincia di Venezia alla provincia di Treviso, precisamente a Fonte, perché un uomo tenta di rubare il portafogli a un'anziana in un supermercato del paese, lo ripetiamo a Fonte. Fermata una 25enne residente a Trento, la giovane, già nota le forze dell'ordine, percepiva e percepisce tuttora il reddito di cittadinanza. 25 anni, un marito, quattro figli ed una fedina penale davvero lunga. Conosciuta le forze dell'ordine, non è la prima volta che viene fermata, non lavora, almeno legalmente, e percepisce il reddito di cittadinanza. Ieri la giovane residente a Trento è stata arrestata dopo aver messo le mani nella borsa di una donna di 78 anni. Ha preso il portafoglio facendosi aiutare da un minore, il nipote del marito. I due hanno approfittato di un attimo di disattenzione dell'anziana che aveva lasciato la borsa nel carrello. Ma il gesto non è passato inosservato agli uomini della sorveglianza del supermercato di Onè di Fonte, che sono immediatamente intervenuti bloccando la donna ed il ragazzino in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Erano stati proprio loro, i militari dell'arma, ad avvertire della coppia di giovani che già da qualche giorno si aggirava nel negozio, verosimilmente per prendere di mira anziani intenti a fare la spesa con l'obiettivo di sottrare loro portafogli ed effetti personali. Quando nelle immagini delle telecamere sono stati visti nei paraggi del supermercato, i militari hanno allertato la sorveglianza. Oggi si è svolto il processo per direttissima per tentato furto aggravato. La donna, che ha confessato il reato davanti al giudice, ha patteggiato tre mesi ed una multa di 100 euro ed è stata rimessa in libertà. Il minore è stato invece deferito all'autorità giudiziaria a minorire per gli stessi reati. Adesso a Padova, nasconde due chili di droga frutto di un sequestro nel parcheggio della caserma. Un 54enne brigadiere della finanza andrà a processo. Due chili di cocaina frutto di un sequestro nascosti nel parcheggio del comando della guardia di finanza di Padova. Nei guai un brigadiere delle fiamme gialle di 54 anni che ora è indagato dalla procura di Padova per peculato, falso e detenzione di stupefacente. E al momento si trova agli arresti domiciliari dopo aver ammesso le sue responsabilità. Nei suoi confronti è stato aperto anche un procedimento disciplinare. La vicenda era emersa la scorsa primavera quando un collega del finanziere aveva casualmente rinvenuto all'interno della garage della caserma due involucri da un chilo ciascuno contenente dello stupefacente. La droga faceva parte di una partita di 10 chili di cocaina sequestrata alcuni giorni prima e che doveva essere distrutta. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza si è risaliti agli spostamenti del brigadiere che prima di essere incriminato ha confessato dicendo che li aveva tenuti per uso personale e non per rivenderli. Il 54enne dovrà ora comparire nell'aula del Tribunale il prossimo 13 dicembre. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo pronti per collegarci con Treviso per tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'omicidio che è stato commesso ieri sera. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus Tg. Come vi ho annunciato prima della pausa pubblicitaria adesso parliamo di un drammatico fatto di cronaca che ha funestato Treviso. Un omicidio che si è commesso ieri sera ucciso con una coltellata un cittadino kossovaro. Alla base di questo omicidio forse un regolamento di conti. Noi siamo pronti per collegarci con Cristian Arboita da Treviso ma prima lanciamo il servizio che ci racconta che cosa è successo. È di un morto e sei feriti il tragico bilancio di una notte di sangue e violenza per certi versi inedita in viale 4 novembre a Treviso. Sono le 22 quando all'esterno del bar La Musa scopre una rissa tra due gruppi rivali di nazionalità macedone e kossovara. Spinte, puni, bastonate sono circa una ventina gli uomini coinvolti finché non spunta un coltello. Un 45enne kossovaro viene colpito fatalmente all'addome, muore in pochi istanti. La tensione altissima, gli stessi titolari del bar di origini cinesi si barricano con alcuni clienti nel locale. Scatta l'allarme da qui l'arrivo immediato delle forze dell'ordine. Squadra mobile, carabinieri, polizia locale, su M118, tutti arrivano sirene spiegate. È la fuga. A terra oltre al kossovaro morto ci sono altri sei uomini feriti. Quattro vengono portati al pronto soccorso di Treviso, due a Oderzo. Gli altri scappano, qualcuno cerca di nascondersi negli androni nei cortili privati dei condomini della zona. Le indagini sono subito affidate alla squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto. Sul posto anche la polizia scientifica per circoscrivere il luogo del delitto. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una sorta di regolamento di conti tra due gruppi rivali, forse per ragioni di lavoro. Il gruppo che ha innescato la rissa sarebbe arrivato in auto e ha subito puntato il gruppo rivale. Insomma un vero e proprio commando. I rilievi sono continuati per tutta la notte partendo dal coltello e dai bastoni abbandonati a pochi metri di distanza dal luogo dell'omicidio. Diverse le persone fermate e portate in questura. Il principale indiziato per l'omicidio sarebbe stato trovato nella sua abitazione dopo qualche ora. Sarebbe già coinvolto in un'inchiesta per omicidio stradale. Il quadro è in evoluzione. Si stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona. Nel corso della notte è arrivato anche il sindaco Mario Conte. A questi episodi la città di Treviso non è abituata e non ha alcuna intenzione di abituarsi. Quindi chiederò un appuntamento per fare il punto con il prefetto questore. Per far luce su quanto è successo e soprattutto per continuare a lavorare. Perché episodi come questo noi non vogliamo più vederne. Dei sei feriti, cinque sono già stati dimessi. Il sesto sta completando degli esami, poi sarà dimesso a sua volta. Per tutti la prognosi è tra i 15 e i 30 giorni. Notte di sangue e violenza dunque a Treviso. E noi adesso ci colleghiamo con Christian Arboit che è proprio sul posto per darci tutti gli ultimi aggiornamenti e per tutti i dettagli aggiuntivi di queste ultime ore. Christian, buongiorno, a te la linea. Sì Alex, buongiorno Alex. Ecco, partiamo da questo. Questo è il sangue ancora presente qui sul Porfido di Viale 4 novembre. Questo è il luogo del delitto dove il 45enne Kosovaro ha trovato la morte. Un affendente alla coscia che è stato veramente fatale. È morto in pochi minuti. Dopo una parapiglia generalizzata, circa una ventina, come raccontavo nel servizio, le persone coinvolte. Un vero e proprio commando che è entrato in azione. Ti racconto un po' il contesto. Siamo in zona fiera a Treviso, una zona molto residenziale. Qui poco distante, poi ve lo mostro, c'è il bosco verticale, c'è un'area residenziale molto nota. Zona fiera, qui a pochi passi, tra l'altro, si stanno svolgendo proprio in questi giorni le tradizionali fiere di San Luca. È un appuntamento molto noto ai trevigiani. Migliaia e migliaia le presenze, tanti anche i bambini, le famiglie. È veramente uno dei riti trevigiani. Questo è il contesto. Questo è il bar che ieri sera era aperto e che al momento del parapiglia è diventato il rifugio di clienti e titolari che si sono barricati all'interno mentre qui fuori si stava scatenando l'inferno. Poco prima delle 22, stando alle prime ricostruzioni, è arrivato un vero e proprio commando. A bordo di una Chrysler nera sono scesi degli uomini che si sono diretti verso questo kosovaro che si trovava con alcuni connazionali proprio in questa zona e lì appunto cinghiate, bastonate finché è spuntato questo coltello che è stato per l'appunto fatale al 45enne. Quindi poi è stata una notte di autentico terrore, ce l'hanno raccontato anche alcuni residenti qui della zona. Nel momento in cui sono arrivati gli uomini della squadra mobile guidati da Immacolata Benvenuto, i carabinieri, la polizia locale c'è stato il fuggi-fuggi. Quindi immagina sirene spiegate nel cuore di Treviso, una task force di uomini e mezzi che arrivano sul posto e queste persone, chi riusciva ovviamente, si è dato alla fuga perché a terra sono rimasti di fatto alcuni feriti che poi sono stati trasportati. Chi ha Treviso, chi ha Oderzo per le cure necessarie. Poi la fuga, la fuga in questa viuzza sostanzialmente che porta a una zona residenziale, quella di cui ti parlavo poc'anzi, con questi soggetti che si sono nascosti dove potevano per sfuggire gli uomini approfittando dell'ombra, dello scuro, del buio notturno ovviamente. Quindi vedi questi cortili che sono diventati luoghi di rifugio per questi soggetti di nazionalità kossovara e macedone. È stata una notte di inseguimento, è stata una notte di rilievi da parte della polizia scientifica. Poi questa notte, come si diceva anche nel servizio, l'arresto di questo 32enne kossovaro. Sarebbe lui il principale indiziato per la morte del 45enne. Tra l'altro già gravato da una serie di precedenti è sotto inchiesta per omicidio stradale. Quindi chiaramente non uno stinco di santo parrebbe, ma ovviamente tutto in evoluzione. Il quadro è molto fluido. C'è da capire se realmente tutti i soggetti interessati da questa maxirissa siano stati in qualche modo intercettati, individuati, identificati nel corso della giornata. Cercheremo di fare il punto anche con gli uomini della Questura, con la Procura della Repubblica, per un fatto che è assolutamente inedito. Qui a Treviso, perlomeno nella storia recente, condannato, lo hai sentito anche dal sindaco Mario Conte. Ultimissima cosa, ultimissimo tassello. Probabilmente i fatti sono scollegati, anzi sicuramente sono scollegati, ma fanno parte di un clima. Nella notte, tra sabato e domenica, Maserada sul confine tra Maserada e Breda, già stato un atto, gesto intimidatorio, un altro regolamento di conti parrebbe, in questo caso fra famiglie nomadi, spari nella notte contro un'abitazione e tensione alle stelle. In quel caso stanno indagando i carabinieri. Quindi qualcosa sta succedendo, probabilmente tra i gruppi organizzati del Trevigiano, di diverse etnie, e questo non fa che alzare il livello di guardia. Io per il momento direi, Alex, è tutto da Treviso, da Viale 4 Novembre, con Nicoletta Rizzetto ti restituirei la linea. Cristian, grazie per la tua ricostruzione puntuale, fedele, per il tuo collegamento. Buon lavoro, perché ci sarà tanto da raccontare, tanto da approfondire poi nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione, edizioni che riguardano tutto il gruppo Media Nord-Est. Noi rientriamo in studio per lanciare la pubblicità, piccolo break, rientriamo tra poco perché abbiamo tante altre notizie di cronaca e poi l'attualità, le nostre inchieste, i nostri approfondimenti e le voci dei cittadini. A tra poco. Adesso voltiamo pagina, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Sono stati 30 minuti intensi di tante notizie di cronaca con il collegamento in diretta da Treviso proprio sul luogo del delitto dove ieri si è consumato l'omicidio a un cittadino kosovaro e quindi con tutte le varie implicazioni e gli aggiornamenti che ci ha puntualmente riferito il nostro collega Cristian Arboit. Adesso parliamo di attualità, parliamo di tematiche che sono legate in un certo modo alla cronaca, non certo cronaca nera, ma cronaca che sposa la crisi economica, le difficoltà di famiglie, commercianti, imprenditori, amministrazioni locali, lo ripetiamo da mesi, sono le difficoltà del caro energia, le difficoltà del caro bollette e dell'aumento dei costi delle materie prime. Una piaga sempre più profonda che preoccupa le famiglie e che spinge la gente a manifestare in piazza. Ieri abbiamo raccolto proprio alcune voci, partiamo da chi, e parliamo di esercenti di Vicenza, ha deciso di scendere in piazza per una protesta clamorosa. La gravissima crisi economica alle porte dell'inverno 2022 angoscia tutte le categorie economiche. La pandemia, la guerra in Ucraina, lo scatenarsi delle speculazioni stanno spingendo sempre più fuori controllo le dinamiche dei prezzi. Gli esercenti e i commercianti dicono basta e convocano domani in piazza dei signori a Vicenza un migliaio di iscritti, ma questa volta protagoniste sono le famiglie. Perché famiglie in piazza? Perché abbiamo avuto un riscontro, penso tutti, intanto del caro bollette e poi anche del caro vivere, perché non solo sono aumentate acqua, luce e gas, ma è aumentato anche andare a fare la spesa. Da lì tante persone mi hanno detto ma perché non facciamo qualcosa, perché non facciamo sentire la nostra voce invece di fare le solite pecore. Da lì ho detto va bene, uniamoci, mettiamoci insieme, ci siamo baristi, ci sono pensionati, ci sono famiglie, ci sono aziende. Una manifestazione in contemporanea anche a Roma. Obiettivo? Sollecitare un intervento immediato e diretto del governo che sta incassando ingenti plus valenze. Tante aziende andanno ad aprire fuori dall'Europa perché noi che giriamo un po' le aziende che ci contattano ci dicono addirittura questo chi in America, chi in Texas, chi in Australia, cioè fuori proprio dall'Unione Europea. Perciò il slogan di bandiere bianche e famiglie in piazza è falliamo noi, fallirete anche voi. L'urlo di dolore degli esercenti, dei commercianti sembra potersi riassumere in questa frase. Siamo tutti a rischio fallimento. Un grande problema che si ripercuote sul mondo del lavoro, si ripercuote anche inevitabilmente sulla vita quotidiana e sulle famiglie. Noi abbiamo raccolto le voci dei protagonisti della protesta di famiglie in piazza. È una cosa molto importante questa manifestazione proprio per le famiglie perché da qua si vede già un calo di vendite generalizzato in tutti i negozi, non solo nel nostro ma in qualsiasi parte. Passiamo a comprare le robe essenziali, essenziali, attività come bar, ristoranti, gilaterie. Non mi rischiano ad andare in fallimento perché la famiglia non fa più quella spesa in più da dire vabbè posso permettermi anche un gelato, un caffè, una colazione. Quindi piuttosto si comprano le cose al supermercato. I nostri clienti stanno sicuramente molto più attenti alla spesa perché stanno dicendo che spegneranno il riscaldamento, abbassaranno i fornelli, quello sì. Le famiglie hanno questi rincari del bollette, della spesa, il carburante. È diventato veramente insostenibile. I conti non tornano più. La gente dovrebbe lavorare molte più ore di quelle che sta lavorando per potersi permettere di sostenere la famiglia. E quindi si scende in piazza per protestare perché l'unico che può fare qualcosa è il governo. È il governo che deve intervenire a bloccare queste speculazioni e che deve bloccare finalmente tutte queste cose che arrivano da altri paesi, dall'Olanda, dove stanno venendo derivati, per far sì che le famiglie possano riprendere e vivere. Costi alle stelle, lo stiamo raccontando, lo state raccontando, perché sapete che la linea editoriale di Rete Veneta è quella di dare voce ai cittadini, dare voce a chi lavora, a chi vive nel territorio. Ebbene, dicevamo, costi alle stelle, non solo l'energia, ma anche le materie prime. Secondo le stime di APE, l'Associazione dei Pubblici Esercizi della provincia di Padova, pensate che entro la fine dell'anno potrebbero essere solo in provincia di Padova oltre 300 le attività che chiuderanno. Nel momento in cui sembrava che le cose potessero ripartire, c'è calata dall'alto questa scure dei costi, dell'aumento dei costi non soltanto energetici, ma per quanto riguarda i pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, anche i costi delle materie prime. Uno stilicidio continuo, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, tutte piccole attività di famiglia, ma anche aziende più organizzate che dopo aver esaurito i risparmi accantonati decidono di abbassare le serrande. A Padova e provincia, entro fine anno, saranno 300 secondo le stime di APE. L'azienda è costretta a fare i conti anche con l'avvio della restituzione dei finanziamenti contratti post-Covid, sfruttando il decreto liquidità del Conte 2 con garanzia al 100% dello Stato. Serve un intervento urgente da parte del Governo, spiega Segato, che ha scritto una lettera a tutti i nuovi parlamentari eletti. Abbiamo fatto presente la necessità di avere in maniera tempestiva dei provvedimenti a sostegno delle imprese. Tutti quanti ci hanno detto comunque che prima di metà novembre sarà difficile, se non è impossibile, avere dei provvedimenti. Noi auspichiamo veramente che almeno questa data del 15, mettiamo di novembre, possa essere una data realistica per salvare le imprese, perché salvando le imprese si salvano anche i posti di lavoro. Restiamo a Padova, perché baristi e ristoratori si appellano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La tempesta perfetta, denominata così, creata dal caro energia e dall'aumento dei costi delle materie, rischia veramente di togliere il sussidio, di togliere la possibilità di lavorare e di andare avanti a tanti imprenditori. Vediamo. Non abbiamo più tempo. Ormai il fattore tempo è diventato il primo fattore critico nostro. Stiamo continuando a ricevere bollette stratosferiche. Il costo delle materie prime ormai ha raggiunto aumenti intorno al 200%. Cosa dobbiamo fare? Ormai non abbiamo neanche un interlocutore. Ecco perché abbiamo deciso di chiedere un incontro al primo cittadino d'Italia, l'unico punto di riferimento in questo momento in mezzo a questo marasma. I baristi e ristoratori padovani chiedono un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non c'è più tempo, dicono, il prezzo delle materie prime e il caro energia rischiano di schiacciare le imprese. Dopo le manifestazioni, gli incontri con i politici e i suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per il risparmio energetico, è stata così scritta una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica che sarà firmata dal Presidente Appe, Erminio Alaimo, dalla Presidente del gruppo pasticceri Federica Luni, ma anche da centinaia di esercenti titolari di bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie. Abbiamo chiesto un appuntamento, abbiamo scritto una lettera col cuore in mano a nome non solo dei pubblici esercizi che rappresentiamo, 3.000 su Padova e provincia, ma a nome anche dei collaboratori, dipendenti, famiglie, perché se noi abbiamo problemi, anche le nostre famiglie hanno problemi. Ecco perché è partita la raccolta firme e lunedì 17 partirà la lettera indirizzata al Presidente dell'Italia, Sergio Mattarella. E la crisi ricade anche inevitabilmente in quella che è la gestione delle spese quotidiane mensile degli italiani, dei veneti in questo caso, meglio ancora dei vicentini, perché ci spostiamo proprio a Vicenza dove il comune è pronto a dare un contributo per pagare l'affitto, per aiutare a pagare l'affitto alle famiglie in difficoltà. Vittime della crisi, quelli che non riescono più a pagare l'affitto. Il comune di Vicenza è pronto ad aiutare le famiglie in difficoltà. Grazie al riparto che arriverà dalla Regione Veneto riteniamo di avere una somma pari circa a un milione di euro con la compartecipazione del comune con 60 mila euro. Questo permetterà di aiutare mediamente riteniamo circa mille famiglie con un contributo medio sulla base dell'anno scorso abbiamo visto di circa 1.500 euro a richiesta. Un contributo una tantum non solo per le famiglie con Ise sotto i 20 mila euro come l'anno scorso ma anche per quelle che hanno Ise fino a 35 mila euro e che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% a causa dell'epidemia. Un aiuto prezioso perché nel 2022 il governo ha sbloccato gli sfratti dopo due anni di covid e a Vicenza ci sono già 60 famiglie che hanno uno sfratto avviato. Con questo aiuto naturalmente potrebbero essere aiutate a pagare dei canoni arretrati e quindi questo bando arriva in un momento estremamente significativo che potrà ritengo aiutare dei nuclei familiari a rimanere all'interno della loro abitazione e non doversi riversare per strada. Sul tema del caro bollette e del caro energia si è espresso anche Giacomo Possamai che chiede alla regione di aiutare le piccole e medie imprese a installare pannelli fotovoltaici. Energia pulita l'antidoto ai caro carburanti ai prezzi del gas sparati alle stelle la risposta agli incastri economici alle tensioni della politica internazionale alle insidie della speculazione energia pulita perché il sole è di tutti splende in cielo e la luce non conosce confini dogane diktat ecco perché il fotovoltaico può essere una risposta in tempi di crisi non sempre non per tutti ma è sicuramente uno degli indirizzi da prendere per il futuro Di fronte al caro energia che sta mettendo in gravissima difficoltà le piccole e medie imprese del nostro territorio oltre che ovviamente tantissime famiglie avevamo lanciato alla regione una sfida con una mozione chiedendo che venissero destinati 50 milioni di euro alla possibilità di installare pannelli fotovoltaici appunto sui tetti delle piccole e medie imprese che vuol dire anche piccoli negozi vuol dire piccole attività economiche il cuore del Veneto In consiglio regionale era stata bocciata la mozione ma la regione Veneto ha deciso di fare ugualmente un piccolo passo non 50 milioni di euro ma 5 La regione ha deciso di mettere 5 milioni di euro tramite Veneto Sviluppo è un buon segnale è un piccolo segnale ma sono troppi pochi soldi della richiesta torniamo a chiedere è quella di mettere 50 milioni che possono davvero aiutare migliaia e migliaia di imprese del Veneto ad uscire da una difficoltà enorme nel pagare le bollette Cosa sta facendo la politica come risponde la politica territoriale a questa grande emergenza che riguarda insomma gli aumenti e le bollette alle stelle ebbene questo è stato uno dei temi di discussione il tema centrale della discussione di un incontro che si è tenuto ieri a Treviso con i vari amministratori della marca vediamo anche ieri un'emergenza non indifferente che non mi sarà mai stupito di avere è stato che un condomino mi ha chiesto di poter sigillare i suoi radiatori completamente marito e moglie anche non giovanissimi hanno candidamente affermato davanti a tutti che loro non riuscivano a pagare le spese condominali proprio detto in maniera diretta davanti alla pratea del condominio che o mangiavano o pagavano le spese condominali la fotografia dell'emergenza nelle parole degli amministratori di condominio il caro bollette sta mettendo in crisi tante famiglie ed il rischio di avere condomini che si vedranno staccare luce o gas è purtroppo già una realtà la preoccupazione oggi come oggi è che la bolletta entro il mese la dobbiamo pagare sono già successi dei casi che hanno chiuso il gas se queste situazioni si stanno verificando già ora a riscaldamenti ancora spenti la situazione prevedono gli amministratori esploderà tra qualche mese che fare in attesa di provvedimenti del prossimo governo nei condomini specie dove il riscaldamento è centralizzato in cui linee proprietari tremano di fronte al condomino virtuoso che ha pagato la propria quota perché lo può fare perché ha le disponibilità economiche per farlo ci sarà accanto a lui quello che quelle disponibilità non per sua colpa non le ha e quando questo si verifica ahimè anche il condomino virtuoso patisce le conseguenze dell'interruzione della fornitura l'amorosità è salita dal 14% del periodo pre-covid all'attuale 31% e le previsioni sono purtroppo molto preoccupanti con ogni probabilità con l'avanzare dell'inverno i problemi si faranno più difficili perché aumenteranno i consumi aumenteranno le bollette sempre di più si ridurrà quel piccolo gruzzoletto che ogni famiglia ha da parte per far fronte all'emergenza ci fermiamo adesso per la pubblicità ma sono ancora tante le cose da dire da vedere assieme nella seconda parte del nostro Focus TG ritorniamo da voi tra pochissimo Ben ritrovati in diretta con Focus TG tante le notizie gli approfondimenti ancora da vedere da ascoltare insieme in questa seconda parte del nostro giornale in diretta fino alle 13.30 con anche i nostri collegamenti dal territorio dopo aver avuto Cristian Arboit che ci ha raccontato tutti gli ultimi sviluppi gli aggiornamenti sull'omicidio che si è consumato ieri sera a Treviso in zona fiera noi adesso continuiamo però con l'attualità continuiamo anche con una notizia curiosa se vogliamo perché è un po' singolare l'iniziativa del primo cittadino di Limena che ha deciso di prendersi ferie dal lavoro per dedicare il tempo esclusivamente al bilancio preventivo del comune alle prese e qui ci ricolleghiamo con il filone di servizi che abbiamo visto prima della pubblicità un comune e un bilancio in difficoltà alle prese con il caro energia il sindaco il sindaco di Limena Stefano Tonazzo ha deciso di prendere ferie al lavoro per chiudere il bilancio del suo comune una scelta fatta per avere più tempo per cercare fondi e far quadrare i conti anche la scelta di andare in ferie è fatta per non pesare sulle casse municipali perché l'aspettativa sarebbe stato un ulteriore agravio per il bilancio del comune quindi ho questa fortuna di un'azienda sensibile e quindi le ferie permettono a me di essere più concentrato su tutto ciò che sta succedendo e soprattutto come diceva lei di cercare di chiudere il bilancio grossa voce di spesa il costo dell'energia che era addoppiato rispetto allo scorso anno noi abbiamo un bilancio di circa 9 milioni di euro su questa cifra le bollette pesavano in un periodo normale tra virgolette per circa 700 mila euro e ora le simulazioni dopo vi dirò perché parlo di simulazioni parlano di una forchetta tra i 6 e 800 mila euro in più che il comune deve spendere per pagare la pubblica illuminazione il grassa e la corrente sugli edifici pubblici i servizi alla persona non verranno toccati assicura il primo cittadino devo assolutamente recuperare questi soldi pena staccano anche i comuni eventualmente la spina e quindi non potrei più riscaldare le scuole non potrei più avere la pubblica illuminazione che tra parentesi io voglio mantenere tutte le notti io non sono un comune che vuole staccare la pubblica illuminazione perché sarebbe la morte abbiamo la seconda zona industriale a livello di estensione della provincia di Padova non è proprio il caso avere una zona industriale al buio ma neanche la residenzialità quindi siamo costretti a tagliare le spese non essenziali il caro energia l'aumento delle materie prime insomma sono situazioni che stanno mettendo in difficoltà non solo la sopravvivenza di aziende non solo la vita quotidiana di famiglie di imprenditori ma anche diversi settori commerciali ad esempio quello vitivinicolo le difficoltà in prospettiva sono quelle come in tanti altri settori dell'aumento dei costi energetici ma non solo vetro, carta, tappi alluminio ed è così che il settore vitivinicolo dopo aver retto il peso della pandemia con spalle forti inizia a percepire la vulnerabilità del momento c'è il problema anche della reperibilità del vetro delle bottiglie in particolare oltre che quella dei cartoni perché l'industria del vetro è un'industria energivola un settore quello vitivinicolo pietra preziosa radicata da sempre nel territorio che non accenna però ad arrendersi tante le iniziative promosse anche a Treviso come la prima edizione di Rosso Bordeaux in programma domenica 16 ottobre nella bellissima scenografia di Palazzo Giacomelli un vero e proprio viaggio alla scoperta dei vini del Montello e dei Colli Euganei è una iniziativa congiunta fatta appunto dal consorzio vini Montello consorzio Colli Euganei in cui cosa ci prefiggiamo come obiettivo principale a portare i vini del territorio qui a Treviso per farli scoprire la città sinergia tra consorzi che punta soprattutto alla scoperta e valorizzazione del territorio manifestazioni come queste appunto vanno a mettere in evidenza delle produzioni che appartengono alla storia appartengono alla cultura del nostro territorio veneto però magari oggi non sono conosciute perfettamente e attraverso occasioni come queste appunto si può generare delle nuove emozioni la pagina della sanità adesso la introduciamo parlando e dando una rapida lettura un aggiornamento dei dati covid che riguardano le ultime 24 ore i nuovi casi registrati in Veneto sono poco meno di 6.000 nelle ultime appunto 24 ore per l'esattezza 5.939 un dato in linea grossomodo leggermente inferiore rispetto alle rilevazioni di ieri il bollettino regionale fa segnare purtroppo anche 9 vittime nelle ultime appunto 24 ore il totale sale quindi da inizio pandemia a 15.557 gli attuali positivi risultano in aumento per un totale di 66.632 quindi quasi 67.000 positivi in Veneto cala fortunatamente il dato ospedaliero con 901 ricoveri in area non intensiva quindi meno 18 rispetto a ieri mentre restano pressoché invariate le terapie intensive 43 più 1 rispetto a ieri parlando di sanità noi ci spostiamo adesso nell'Ulss 7 perché sono mesi che i cittadini i pazienti le famiglie e anche chi lavora negli ospedali ci racconta casi di disorganizzazione di profondo disagio sono state tante tantissime le iniziative messe in atto insomma da chi vive nell'area di pertinenza dell'azienda ospedaliera della Pedemontana a partire dalla raccolta di firme consegnate poi in regione ebbene settembre è arrivato non sembrano cambiate le cose non sono arrivate le risposte da parte della politica regionale e allora amministratori e cittadini del territorio tornano in piazza con i banchetti settembre è passato la campanella per le scuole ha già suonato più e più volte e quindi tempo di verifiche e di controllare se i compiti per casa sono stati fatti e se la lezione è stata assimilata non ci riferiamo agli alunni del Bassanese ma i dirigenti dell'Ulss 7 alla politica regionale a coloro che lo ricorderete avevano detto a settembre daremo risposte da settembre le cose cambieranno lo avevano detto e lo avevano promesso in occasione della consegna in regione delle oltre 3000 firme raccolte con i banchetti contro la disorganizzazione dell'Ulss diretta da Carlo Bramezza ebbene l'estate è passata settembre è passato ma i problemi e le risposte sono rimasti in evasi e allora è tempo di tornare in piazza con una nuova raccolta firme e con la stessa determinata convenzione di voler cambiare le cose in un comunicato amministratori e cittadini del territorio hanno annunciato che torneranno i banchetti ci sarà anche uno spazio a disposizione dove poter scrivere al direttore generale Bramezza al presidente Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin come sempre ribadiamo ai medici e agli infermieri e a tutto il personale sanitario il nostro apprezzamento e la nostra vicinanza per le difficoltà operative e organizzative che stanno vivendo i primi appuntamenti con i banchetti saranno al mercato di Valstagna venerdì 14 ottobre in mattinata e sabato 15 ottobre sempre in mattinata al mercato di Bassano restiamo a Bassano perché incittati le banque una polemica forte contro l'amministrazione comunale per una questione legata al degrado post Fiera Franca d'autunno vediamo è mercoledì mattina in via Bellavitis sono passati tre giorni dalla Fiera d'autunno e qui sul marciapiede come potete vedere non è cambiato nulla i tombini sono ancora pieni di sporcizia la gente è ancora in viperita ne abbiamo parlato con chi ha organizzato per anni la Fiera d'autunno e che forse può avere qualche consiglio per l'amministrazione di Elena Pavan ecco cosa è mancato nel fine settimana prima e dopo ci sono andate due cose fondamentali un'opera di prevenzione di previsione per cui se prevedo che arriveranno in città migliaia e migliaia di persone devo fare in modo che i controlli vengano intensificati se c'è il rischio come il rischio reale c'è che ci siano addirittura sversamenti di sostanze che oltre a essere brutte da vedere e da annusare sono anche potenzialmente molto inquinanti perché gli oli esausti non vanno confetti in quella maniera devo prevedere dei turni di polizia locale per residenti e commercianti inoltre andava fatta una pulizia approfondita dei marciapiedi e dei tombini poi comunque mi prendo la responsabilità di pulire molto velocemente non soltanto la strada che è stata pulita perché le spazzatrici dietro fanno il classico giro a fine manifestazione come fanno anche durante anche alla fine dei mercati ma devo anche prevedere di pulire i marciapiedi i muri i tombini e quello che serve alla luce di tutto questo ci sono dei rischi per il tessuto commerciale cittadino rischiamo che un evento fortemente attrattivo in città molto importante irrinunciabile per Bassano rischia di ottenere effetti negativi dopo a carico poi di commercianti esercenti che lavorano tutti i giorni dell'anno a Bassano e noi tra poco torneremo a Bassano perché tiene banco un altro problema legato al quartiere San Lazzaro a un progetto di cementificazione di tutta l'area ma ne parleremo più avanti perché ci sono importanti sviluppi adesso però ci colleghiamo perché vedo pronta la nostra collega Valentina Visentin da Padova per andare a parlare di un altro problema un problema che riguarda la carenza di alloggi per gli universitari buongiorno Valentina te la linea sì buongiorno da Padova qui con me c'è Elisa Covolo studentessa del collettivo Spina ad una settimana di distanza dalla prima manifestazione piuttosto eclatante davanti al Boc con le tende piantate dagli studenti per denunciare la carenza di alloggi universitari gli studenti tornano a manifestare oggi per chiedere un incontro con la rettrice sì esattamente e noi avevamo già ottenuto questo incontro non in modo formale ma insomma ci si era accordati per avere un incontro con sindaco rettrice prorettrice e questo incontro noi abbiamo chiesto che fosse si fosserebbe tenuto entro una settimana dalla data del primo presidio quindi entro martedì noi non solo non abbiamo ottenuto questo incontro ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta da nessuna delle istituzioni e quindi abbiamo deciso di tornare in piazza abbiamo deciso di farlo oggi anche perché martedì c'è stata la seduta del senato accademico dell'università di Padova e noi la mattina abbiamo consegnato il nostro documento che abbiamo stilato insomma con le nostre richieste e siamo riusciti a consegnarlo alla prolettrice che sarebbe andata appunto successivamente in senato accademico e ieri mercoledì è uscito il report di cosa è successo cosa si sono detti durante quella seduta e ovviamente non c'è traccia della questione abitativa quindi abbiamo deciso che era necessario scendere in piazza oggi perché se non ne parlano i rappresentanti degli studenti all'interno del senato accademico qualcuno ne deve parlare perché è un problema reale è un problema che colpisce moltissime persone purtroppo sono circa 2000 gli studenti che hanno bisogno di un alloggio a fronte di 700 posti appena sì e la situazione quest'anno si è anche ulteriormente aggravata rispetto agli scorsi anni perché con con il fatto che negli scorsi anni la didattica a distanza era ancora permessa l'università di Padova ha aumentato il numero dell'immatricolazione rispetto agli anni precedenti quindi questo ha portato a un surplus di studenti e studentesse che però una volta arrivati qui a Padova hanno trovato una città che non si era ingrandita abbastanza per poterli accogliere quindi sono costretti appunto a vivere in hotel o Airbnb spendendo tantissimi soldi quando appunto se ci fosse un intervento più strutturale da parte dell'università magari anche insieme al comune e la situazione sarebbe molto più gestibile anche per loro il termine ultimo è il 25 ottobre perché entro questa data si può ottenere la borsa di studio esattamente e è un termine che è posto arbitrariamente nel senso che potrebbe benissimo essere spostato come potrebbe essere eliminata questa clausola come la clausola dei dieci mesi minimi di affitto necessari per avere la borsa di studio perché effettivamente dando anche uno sguardo superficiale alla situazione corrente vediamo che trovare un allozzo per dieci mesi entro la scadenza del 25 ottobre è sostanzialmente infattibile perché spesso magari si trovano alloggi per un semestre però allora la borsa di studio non è in grado di coprirti e nel mentro ovviamente mentre gli studenti e studentesse cercano casa si rifanno ad alloggi temporanei appunto come hotel Airbnb che hanno costi molto elevati per cui c'è bisogno insomma di un'intervento da parte dell'università in questo senso e appunto oggi la mobilitazione a partire dalle 4 davanti a Palazzo Bo con la speranza appunto di ottenere un incontro con la rettrice Daniela Mapelli e da Padova è tutto restituisco la linea allo studio grazie a Valentina Visentin grazie anche alla sua ospita rappresentante degli studenti noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario rientriamo perché abbiamo ancora tante cose da vedere da approfondire insieme a fra poco ben ritrovati in diretta con Focus Tg lo saremo fino alle 13.30 come di consuetudine ebbene vi anticipavo prima del break pubblicitario che saremo tornati a Bassano una tematica che sta tenendo banco in città quella che riguarda San Lazzaro che riguarda il futuro di un'area una delle ultime aree verdi della città ebbene l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha difeso l'insediamento di San Lazzaro la sua intervista andata in onda nel Tg Bassano l'altra sera ha causato una vera e propria levata di scudi da parte del territorio da parte dei residenti e noi adesso ascoltiamo la voce proprio di chi abita lì una residente di Riva Bianca volevo far sapere all'assessore Donazzan e a tutte le istituzioni imprenditori che se una famiglia storica qui a Bassano se c'è una famiglia storica qui a Bassano che può costruire questa famiglia sono i campi di San Lazzaro e Rambolina questi campi vogliono costruire agricoltura sostentamento alimentare biodiversità flora fauna rogge acqua non costruire cappannoni automatizzati alti anche 17 metri o trasferimento di ditta non creano posti lavoro e poco importa se fanno i tetti verdi sopra a questi cappannoni di cemento alla base alla fin fine c'è sempre il cemento poco importa anche se pianteranno 2.000 5.000 alberi di quello che vogliono vorrebbero fare ci vogliono ben 500 anni per far tornare fertile un terreno riqualificare i cappannoni dismessi e se non sono grandi abbastanza ne sistemino tanti questo è il giusto modo di creare i posti lavoro e la legge sul consumo suolo sul zero consumo suolo entro 2050 lo capisce anche un bambino che per allora avranno già distrutto il suolo tutto il suolo e poi la circolazione di camion tir su strade che già sono al collasso qui intorno qui nella via cartigliana in orario di non di punta circolano anche fino a 208 mezzi ogni ora alle istituzioni agli imprenditori chiedo di mettersi una mano sul cuore sulla vita e non al profitto e di ascoltare anche la voce del popolo prima di prendere decisioni siamo motivati e coraggiosi pronti a tutti i costi a difendere il territorio ci sono tante buone alternative per riqualificare la terra e la natura alla fine è sempre il popolo a pagare e a soffrire e nel bel mezzo della bagarre su San Lazzaro sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto la legge sul consumo di suolo e sulla tutela del paesaggio in ballo in consiglio regionale ebbene ecco qualche novità San Lazzaro sa da fare rubiamo una mezza citazione per riassumere in una manciata di parole il pensiero dell'assessore regionale a lavoro Elena Donazzan contenuto in un'intervista andata in onda nelle scorse edizioni della nostra informazione bene durante l'intervista avevamo chiesto all'assessore informazioni sulla nuova legge sul consumo di suolo in ballo in consiglio regionale tema di grandissima importanza per il Veneto e per Bassano in questo momento Elena Donazzan ci aveva detto che il provvedimento stazionava in commissione invece eccolo qui licenziato dalla seconda commissione consigliare già ad aprile per l'esattezza il 7 aprile sono passati otto mesi dall'approvazione di quel provvedimento per il quale si sono espressi favorevolmente 34 consiglieri mentre 7 si sono astenuti da quel giorno si è persa ogni traccia dell'aggiornamento della legge sul consumo di suolo che giace dimenticato da molti ma non da tutti in qualche cassetto di palazzo ferrofini e allora noi chiediamo a chi quel progetto di legge l'ha sottoscritto che fine abbia fatto e perché non sia ancora passato per l'aula a chi lo chiediamo? ma ad esempio al presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti che risulta tra i firmatari e ovviamente non siamo solo noi a chiederlo è Bassano sono i bassanesi i residenti le associazioni tutti quelli che hanno già detto più volte giù le mani da San Lazzaro senza avere mai uno straccio di risposta noi adesso voltiamo pagina parliamo di parcheggi e di come sarà più facile parcheggiare a Padova come lo scopriamo nel prossimo servizio trovare parcheggio sarà più facile a Padova grazie a 1600 nuovi sensori e una app in grado di fornire indicazioni in tempo reale sulla disponibilità di posti auto APS Holding in collaborazione con Parchitte Municipi SP Ampliato la digitalizzazione dei servizi di sosta posizionando nuovi sensori in grado di rilevare lo stato di occupazione degli stalli in centro storico a Padova l'utente grazie ad una app scaricata nel telefono che si chiama Easy Padova potrà verificare velocemente dove ci sono parcheggi liberi attraverso la nostra app che è Easy Padova dove avranno la possibilità di pagare la sosta sia in struttura che nell'elettrice blu ma soprattutto grazie all'inserimento di questa sensoristica fornita appunto dal gruppo costituito da Municipi e da Parchitte potranno avere in tempo reale lo stato di occupazione degli stalli e soprattutto ed anche la possibilità di raggiungere la località dove di loro di loro destinazione un servizio che avrà benefici anche dal punto di vista ambientale risparmiando molti giri in auto e indirizzando le persone direttamente nel parcheggio più vicino evitando di attraversare più volte la città rilasciando smog nell'aria questo vuol dire che uno guardando l'app sa dove potrà trovare il parcheggio potrà andare direttamente cliccando su quel parcheggio su Google Maps che lo indirizzerà nel tempo più breve su questo parcheggio con l'app si potrà anche pagare il parcheggio e eventualmente se si sta più tempo del previsto anche allungare la SOS senza dover tornare al parcometro in Veneto l'aria è di nuovo malata chi lo dice? lo dice legambiente analizzando i dati dell'ARPAV nel bacino padano è emergenza smog l'aria è malata lo dice legambiente i dati delle ARPA rilevano che le prime responsabili dell'inquinamento da polvere sono le grandi aziende agricole perché sono grandi emettitori di ammoniaca sostanzialmente che è un precursore del PM10 che si forma in atmosfera a causa buona parte della gestione delle deiezioni animali e quindi di quel che riguarda quel tipo di agricoltura ma anche per quanto riguarda i pesticidi il futuro governo e le regioni mettano la qualità dell'aria tra le priorità e l'appello di legambiente i livelli di sostanze inquinanti misurati nei capoluoghi del nord Italia hanno superato di molto i valori consigliati dall'organizzazione mondiale della sanità in questo periodo inizia a esserci una crisi dal punto di vista dell'accensione degli riscaldamenti anche se l'abbiamo ritardata ma tra poco avremo anche quel problema aumenta il traffico dopo l'estate e nel periodo invernale lo sappiamo bene il particolato tende a ristagnare in atmosfera e poi ce lo respiriamo occorrono per esempio risorse per rendere il trasporto pubblico locale competitivo con la mobilità automobilistica legambiente lo va dicendo da decenni invece accade il contrario che sta succedendo al trasporto pubblico locale il trasporto pubblico locale gode sempre dei medesimi bassissimi pochissimi finanziamenti da parte dello Stato per cui le risorse non sono aumentate in questi anni quindi lo Stato deve intervenire oltre che noi ci auguriamo anche la regione con risorse aggiuntive per dare una mano in una fase di criticità parliamo di sicurezza nel prossimo servizio ci spostiamo a Vicenza perché le forze dell'ordine passano al setaccio i quartieri della città cercando edifici abbandonati proprio per contrastare fenomeni di degrado vediamo obiettivo gettar luce sugli edifici abbandonati dove i cittadini segnalano la presenza di personaggi senza fissa dimora è così che nasce l'ultima operazione delle forze dell'ordine guidate dal questore di Vicenza Paolo Sertori 30 uomini e donne della polizia di Stato col supporto del reparto prevenzione crimine della guardia di finanze e della polizia locale entrano in azione a Campomarzo nella zona della stazione ferroviaria in Viale Milano via Firenze via Rattazzi piazzale Bologna via Battaglione Monteberico via Gorizia e Viale San Lazzaro in particolare i controlli si concentrano su un edificio abbandonato tra Via Genova e Viale Torino dove vengono rilevate evidenti tracce di presenze non autorizzate da parte di personaggi che bivaccano e che vivono compiendo attività illecite la proprietà verrà formalmente richiamata dal questore per la seconda volta nel giro di pochi mesi con l'obbligo di predisporre tutti i sistemi per evitare l'ingresso di intrusi particolare attenzione delle forze dell'ordine anche sul quartiere di Laghetto dove è stato segnalato un aumento della microcriminalità con aggressioni e furti a Vicenza complessivamente sono stati controllati tre locali 28 veicoli e 84 persone alla fine il questore ha firmato due avvisi orali quattro fogli di via e due ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di stranieri che non hanno i requisiti per restare in Italia e continua la nostra inchiesta con gli amministratori del territorio in vista del periodo natalizio per cercare di capire come i vari comuni si comporteranno su un tema come quello delle luminarie natalizie insomma inseriti in un contesto di grande difficoltà economica di rincaro dei costi per l'energia comune per comune cosa si sceglie di fare luci sì luci no addobbi sì addobbi no noi adesso scopriamo cosa ha deciso il primo cittadino di Montegrotto Terme più che all'insegna del risparmio energetico vorremmo impostare una tale all'insegna della sobrietà in primis perché ci sono degli aumenti incredibili per tutti e anche per le amministrazioni pubbliche in secondo luogo anche come forma di rispetto per tutte quelle famiglie che non riescono neanche a accendere la luce per mangiare di sera e poi perché abbiamo tutti gli strumenti per diminuire il budget dedicato alle luminarie natalizie farle comunque in una maniera decorosa per garantire il decoro che si deve a una città turistica parola d'ordine sobrietà a Montegrotto Terme le spese comunali cresceranno di un milione di euro nel 2022 a causa del caro energia ma il pensiero va ai cittadini per questo l'accoglienza natalizia doverosa nei confronti dei turisti sarà organizzata in sinergia con gli albergatori per fare in modo che le luci ci siano ma che il denaro sia usato nella maniera migliore possibile i fondi risparmiati andranno alle famiglie conferma il sindaco Riccardo Mortandello è un risparmio che di fatto abbiamo già tramutato in quei diciamo 50 mila euro di aiuti non solo ai cittadini per pagare le bollette ma anche alle società sportive per andare incontro in modo da favorire la pratica dello sport che è sempre positivo fare soprattutto per i giovani da Montegrotto Terme adesso a Cittadella anche qui il tema la domanda la questione è sempre quella che Natale sarà con le luci o senza? ci sarà il nostro albero di Natale in piazza Piero Bona sarà illuminato avrà le palline realizzate dalle nostre scuole elementari come ogni anno e il centro storico sarà illuminato e luce fu almeno per il Natale di Cittadella luminarie che rimarranno accese durante tutte le feste per donare ai cittadini tutta la magia che solo il Natale sa regalare sarà un Natale come gli anni scorsi noi ci teniamo al Natale perché riteniamo che il Natale sia un periodo di festa soprattutto per le persone che non possono permettersi magari di andare in vacanza o di andare a visitare quelle località che magari il Natale lo vivono in maniera diversa un Natale a luce accese possibile grazie all'installazione di luci led le luminarie sono comunque luminarie a led come le luci dell'albero di Natale quindi il risparmio insomma c'è ma anche la spesa è comunque minimale e per far fronte al caro energia quest'anno il Comune Cittadella rinuncerà la pista da pattinaggio non faremo la pista del ghiaccio la pista del ghiaccio solita che mettevamo in piazza Piero Bona perché purtroppo essendo un'attività che consuma molta elettricità abbiamo scelto di non farla e chiudiamo il nostro giro di interviste riguardanti proprio che cosa succederà a Natale la scelta se illuminare o meno vie e piazze dei vari comuni adesso andiamo a Padova dove non sarà un Natale meno luminoso rispetto al passato le luci che addobbano le vie del centro non verranno diminuite il cara energia andrà ad incidere in parte anche sulle luminarie natalizie padovane non saranno ridotte però e resteranno i giochi di luce e di immagine dei video mapping sarà però ridotto l'orario di accensione le luminarie non consumano più di tanto perché è tutta tecnologia led e rispetto alla spesa energetica del comune stiamo parlando di cifre che sono residuali però abbiamo deciso comunque di spegnere le luci due ore prima rispetto al normale si spegnevano le due di notte le spegniamo a mezzanotte cambierà invece il capodanno per limitare le polveri sottili infatti non ci saranno i consueti fuochi d'artificio ci sono una serie di misure che prendiamo proprio per evitare le emissioni di polveri sottili nell'aria se pensi ai blocchi delle auto quindi non avrebbe senso andare a sparare i fuochi d'artificio in quel momento dell'anno questo non vuol dire che non si possa fare comunque un grande evento magari non sarà in prato ma magari lo porteremo in una piazza del centro stiamo valutando delle soluzioni belle e innovative l'aumento dei costi però porterà sicuramente a ripensare molte manifestazioni l'invito è ad un maggior coinvolgimento dei soggetti privati siamo alle prese con delle riduzioni in termini di budget in tutti i settori del comune però i servizi fondamentali quelli li dobbiamo conservare e chiederemo uno sforzo anche ai soggetti diciamo privati perché le manifestazioni gli eventi possano restare tutti settimana europea dell'energia sostenibile se ne è parlato nei giorni scorsi tra Portogruaro Chioggia Mestre e Venezia Si è conclusa la tre giorni di dibattiti e confronti fra Portogruaro Chioggia Mestre e Venezia nell'ambito della settimana europea dell'energia sostenibile volta a sensibilizzare cittadini istituzioni imprenditori associazioni sui temi della produzione dell'uso intelligente dell'energia in particolare in questo momento delicato noi cerchiamo appunto di far conoscere al maggior numero di cittadini le buone pratiche per un'energia sostenibile e per un'economia circolare ecco perché si può anche rigenerare quello che magari si pensa di buttare via e poi può avere una seconda vita e può essere riutilizzata per creare anche energia insomma ecco anche i piccoli gesti quotidiani possono essere importanti per dare nuova vita ai rifiuti e poterli riutilizzare per creare energia come l'olio vegetale esausto che non è biodegradabile quindi non va gettato nel lavello ma conferendolo all'ecocentro si potrà riconvertire ad esempio in biocarburante e utilizzare come combustibile per i vaporetti a Venezia così come si sta già facendo nel 2020 la produzione di energia da fonti rinnovabili in Veneto ha superato il target attestandosi al 18,7% la zona del Veneto orientale è emerso nel corso della tre giorni è all'avanguardia sia per la raccolta dei rifiuti che per la produzione di energia da fonti rinnovabili restiamo nel veneziano anzi andiamo proprio a Venezia perché 10.000 visitatori in un solo giorno è un record per la Biennale d'Arte appunto di Venezia una mostra mancano ancora 6 settimane alla chiusura appunto della mostra ma i numeri sono già da record sono tornati anzi sono stati addirittura superati i livelli pre-pandemia 10.000 visitatori in un solo giorno mancano ancora 6 settimane alla chiusura ufficiale della Biennale d'Arte di Venezia di Ratte dei Sogni curata da Cecilia Alemani tra i giardini e le corderie dell'arsenale ma questo evento già veleggia oltre ogni record la direttrice da New York è tornata a Venezia per qualche giorno per fare il punto mi pare che la mostra sia andando molto bene sono qui a Venezia in questi giorni perché abbiamo organizzato un convegno con artisti e studiosi ma è anche un'occasione per passare un po' di tempo nelle sali espositive e nella mostra c'è tantissima gente che viene e forse anche la cosa più bella è vedere tantissimi studenti giovani e anche bambini invadere gli spazi espositivi quindi spero che sia un bellissimo ricordo che si porteranno anche negli anni a venire c'è una grande soddisfazione ed è anche bellissimo poter vedere con i propri occhi che anche se ovviamente il covid non è ancora sparito ci sia la voglia di tornare a condividere l'arte anche in una comunione di corpi in un'esperienza molto fisica che può avvenire negli spazi bellissimi della Biennale di Venezia e penso che sia appunto una celebrazione finale del connubio tra arte e spettatori domenica 11 dicembre alle 3 del pomeriggio in cattedrale a Vicenza avverrà l'ordinazione episcopale del nuovo vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto il giorno è fissato a Vicenza il nuovo vescovo arriva domenica 11 dicembre l'ordinazione episcopale e l'inizio del ministero pastorale di Monsignor Giuliano Brugnotto avverranno in un'unica celebrazione che si terrà nella cattedrale la celebrazione alle 3 del pomeriggio sarà presieduta dal cardinale Vicentino Pietro Parolin segretario di Stato Vaticano al suo fianco co-consacranti saranno il vescovo di Treviso Michele Tomasi e il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol sono stati invitati a concelebrare tutti i vescovi del Triveneto e i sacerdoti della diocesi di Vicenza e di Treviso la scelta di unire l'ordinazione episcopale e l'ingresso nella diocesi Vicentina in un'unica cerimonia vuole rispondere a criteri di sobrietà e semplicità e a sottolineare il legame di Monsignor Giuliano Brugnotto con la chiesa vicentina che il nuovo vescovo è chiamato ad amare e a servire un altro incidente alle pendici del grappa ancora cervi investiti e automobili distrutte continua la strage di caprioli e cervi alle pendici del grappa il più delle volte inseguiti fino a bassa quota dai lupi ne parliamo da mesi ponendo l'attenzione sulla questione sicurezza gli animali che attraversano le strade spuntando dalla vegetazione sono un pericolo per loro stessi e per gli automobilisti le immagini che ci arrivano fanno riferimento a un altro incidente avvenuto qualche giorno fa sempre nello stesso tratto lungo la strada che da Romano Dezzellino va a pove del grappa una ragazza ha investito e ucciso una cerva e il suo piccolo distruggendo la macchina nonostante le segnalazioni fatte e la segnaletica presente il problema resta e una delle cause sembra imputabile alle siepi presenti in zona come denunciava a suo tempo Pierino Alessio presidente del comprensorio alpino del grappa perlomeno quando l'animale sta attraversando e ti arriva di improvviso lo vedi invece con le siepi sbucca di improvviso e succede un incidente da tenere presente che in quel tratto attraversano la strada una cinquantina di cervi ogni giorno con ulteriori problemi legati poi al risarcimento dei danni a quinto di Treviso la regione ha incontrato i cacciatori per fare il punto sulla questione calendario venatorio 9 associazioni l'80% del mondo venatorio veneto compatte nel voler difendere il calendario regionale dalle decisioni giudicate ideologiche del TAR che di fronte al ricorso della LAC ha sospeso le due giornate aggiuntive di caccia alle specie migratorie previste dal 1 ottobre al 30 novembre riducendole complessivamente da 45 a 27 e annullato la possibilità di cacciare fin dal 18 settembre spostando il termine al 1 ottobre 19 specie comuni tra cui i fagiani per il tribunale amministrativo le motivazioni della regione sarebbero meno convincente del parere contrario formulato dall'ISPRA l'ISPRA rilascia dei pareri che sono obbligatori quanto al fatto di doverli richiedere da parte delle regioni e non sarebbero però obbligatori o vincolanti sul contenuto ed è questo il punto su cui noi veramente dobbiamo riuscire ad affermare la bontà delle nostre scelte perché diversamente non avrebbe più senso che sia la regione a prendersi l'impegno di fare un calendario facendolo conoscendo veramente la realtà della nostra regione ma sarebbe sufficiente che il calendario lo facesse direttamente l'ISPRA cosa che non è e che non possiamo accettare la regione ha impugnato il parere di fronte al consiglio di stato che si esprimerà dopo domani venerdì mentre il tar entrerà nel merito solo il 30 novembre vale a dire a tempo ormai scaduto siamo fiduciosi che il prossimo governo possa anche fare dei cambiamenti livello nazionale affinché ci sia un giusto equilibrio nel rapporto tra la natura e l'attività venatoria e non un equilibrio a completo vantaggio dell'ambientalismo radicale è davvero tutto per questa edizione di Focus TG io vi rimando all'appuntamento di domani ore 12 ringrazio Renzo Rigon e Fabio Verin alla regia vi auguro buon proseguimento su Rete Veneta grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.